Sacchi, ma dove arrivi? Dalla pista, piove di brutto. Scusa, non avevi un ombrello? Ottengo l'ombrello o faccio le foto? Perché tu sei buono di fare le foto? Con la pioggia la poca luce, guarda che foto che ti ho fatto. Devo dire che sono davvero belle. Fotocamera dual pixel, pazzesca. Hai bagnato tutto il telefono? Ma no, è resistente all'acqua. Va che è una canonata anche con il bagnato. Come la mia moto, pure meglio. Va la patacca. Nuovo Samsung Galaxy S7 Edge, molto più di uno smartphone. Anche i giochi, grafica da paura. Fa pure con comodo, tanto il telefono è il mio, eh. Una volta. Grazie.